La Basilicata Cultural Society ha eletto il nuovo esecutivo alle elezioni svolte il 24 febbraio 2013 presso la propria sede di Woodbridge. Gli 11 componenti del nuovo esecutivo sono stati eletti per acclamazione in quanto le adesioni dei candidati sono state pari al numero di posizioni disponibili. Il nuovo esecutivo che rimane in carica per due anni è così costituito. Mani di Lecce Presidente, Direttori Pat Tremamunno, Vince Primucci Astro Goswami, Enzo Paolicelli, Dani Liberatore, Gio Rinaldi, Anna Maria Strella, Nina Mazziotta, Marina Senteman e Paolo Petrozza. Le varie cariche saranno elette nel prossimo futuro dall'esecutivo eletto. Durante l'Assemblea Generale dei Sogi il Presidente di Lecce ha presentato un bilancio delle attività sociali e culturali del sodalizio degli ultimi due anni, in particolare l'annuale gala con consegna di borse di studi a studenti di origine lucana meritevoli, la sponsorizzazione in collaborazione con l'altra Italia del film Basilicata Cost to Cost di Rocco Papaleo, presentato all'Italian Contemporary Film Festival, la istituzione da parte della regione dello sportello Basilicata presso la sede del sodalizio, che dovrebbe diventare il punto di riferimento e il trade union della comunità lucana con la regione. Il Presidente Mani di Lecce partecipa a l'Assemblea annuale dei Lucani nel mondo che si svolgerà a Potenza l'8 e 9 marzo prossimi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.